La tragedia sotto gli occhi del fratello che stava potando una pianta nel giardino di questa abitazione di Via Gazzo a Cartura. Daniel Bianchi, 25 anni, di tombolo è morto, folgorato a causa di una scossa elettrica. Il braccio meccanico del cestello elevatore su cui si trovava il fratello ha inadvertitamente toccato un cavo dell'alta tensione che passava proprio vicino ai rami da potare. Il giovane che si trovava a terra vicino alla piattaforma che ha fatto da punta è rimasto così folgorato. La potente scarica elettrica non gli ha lasciato scampo e il 25enne è deceduto sul posto nonostante l'immediato intervento del suo M118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, gli ispettori dello Spisa e i vigili del fuoco che ora dovranno chiarire l'esatta dinamica dell'infortunio mortale. Daniel Bianchi, dipendente di una ditta di giardinaggio, è l'ennesima vittima sul lavoro. In Veneto, secondo l'Osservatorio Nazionale, caduti sul lavoro fino ad oggi nel 2022 sono 10 morti. Purtroppo anche quest'anno non c'è nessuna inversione di tendenza, si continua a morire con lo stesso ritmo degli anni precedenti, sottolinea Dario Verdicchi in una nota ufficiale della CGL di Padova. Necessario capire a fondo dinamica ed eventuali responsabilità di questo ennesimo incidente, se vogliamo evitare che possano ripetersi tragedie simili, ha concluso il sindacalista. Grazie. Grazie. Grazie.